Diari Algaris, di tot e di mes, modus di diura di una persona maldicenta, sadio è una lingua di escursione. Buongiorno e ben trovati a voi, vinti e vinti dei Frabè 2020, sarò in tutti e lo ascoltarò. Lo santo del dia, San Romano di Condat, nato a Isernore, in Francia, al 390, comincia la sua esperienza monastica a Lione, ma non trovando la vera solitud, va a Sarcalla nei smonti della giura. Anzi, da spese, raggiungete del Gialmà lo piccino, rastati viut. Assieme, fanno costruire alcuni monasteri, mentre a Elio si aggiungono in altos mongi, e a questi punti fanno costruire il monastero a Condat, che Mestalti diventerà abbazia. Si racconta che un anno i campi di Grà avevano dato fruiti in abbondanza. I patti della confraria, novi ho salvati lo dagioni prescritti. Assai contrariati, faggita' tutti lo gra al rio. Doze mongi, perché sfetti, desci al monastero. Lo santo morì a Condat al 460. Curiosità di Angel Scara. Cos'era lo panier? Era lo vestiario completo della creatura di Nashou. Contaguti in un panier di palma antraciara, Le giovani casari, che per la prima volta avevano dentro una creatura, preparavano per tempo tutto lo necessario, a eccezione del braccio che veniva costruito il Mestre di Nenia. Però, dopo la nascita, perché il figlio prima, sapeva che puntava male. Lo panier aveva dentro, ma anche le camisette, tan cari, che erano fettucce. Los frasatuchos, tesciti dell'ana o cotto, con una mantellina per tapar la schiena. Las camicioras, vestiti gli onchi legati inrere della schiena, con fettucce. Las caretas, andumensi per tapar la capa e la cara. Las cuffias, andumensi per tapar la capa. Los telsi fins, los telsi fins, tela contatta della pelle. Los burquins, palti del fasciati, fetta da un tross de terra, di cotonina rettangular. Pian buricà lo cos. Los curaciorus, los culacius paldonau. Tross de roba, che sa posava sotto del burquim, per acciupar l'urina. Las fascias, sa fevan de pezza lunga, e a stretta de roba de piquet branca. Pian buricà lo cos e lasancas. Prova a criatura con los combinavano. Cuina de la tradizió algaresa. Tens enrera, primer que la pesca fosse proibida, las gnocaras eran abundantes y se pascavano en todo el polticonta, fin a rinzi del poltideralgué. Un modo era aquel de carantar la gnocara e la braja, e si mangiava lo troncho, che era la palt, mes bona amalpà. Cuando el troncho era grosso, se tagliava fitas y se acondía a más pocas goteiras de limón y ori, lo matímini o los bulleles, los bulleles paldonau, que era el 20 que se hacían brujar la lengua. Se rantaba bien, se sbúlizaba a menos 3 euros, los pocos de arena que se encontró. sufriría a más por la primera y una vuelta. Historia, Diocesis del Algué, bisbas algaresas. Algué es diocesis del 1503, inicialmente la diocesisalgarense andaba de la suaitate finza sin irse a escuola, Prendeva anche la diocese di Osir, Oscri, Ottanna e Palt di Nuoro. Ha voluto il rettore inovame s'anaglia di Macomere. E' unificata ma la diocese di Bosa. Le bambini di Algariso sono tre. Ambrose Macchino del 1622 al 1626. Franceschi Boyle del 1653 al 1655. Per Raffaele Arduino, per 20 anni, del 1843 al 1843. 63, palda un'auma. Prantas malassinali, calciofa, rameri contro l'arterio sclerosi, disfusioni hepatici e biliali. Posao 40 gramas di foglia di calciofa, bollì per 6-7 minuti in un litro di acqua. Una volta bolliti, muniubi la foglia e si filtrao. Bagliò una due stassi al dia agliunti despastus. Personaggi di Algariso Umberth Liberatore Nata all'allie nel 1891, poeta, drammaturga e assaijista, literari, va a partire per l'America del Nord. Petra Ball al 1912. Tanti sono spremi di Rassiwitz per le sue obras di poesia e di pubblicista. Per motivi di salute non ha pogut, non ha pogut retornare a la sua allie. Mori a New York al 1975. Parabas della nostra lingua Polfiriar Sasscriu porfidiar e sadio polfiriar Voldiura discutir, contrastar un esempio La fette per Polfiriar Avoguti fai vura che era capace di fare quella cosa. Cistus Algariso De Cirofada Musconi, musconi e muscu Es riferita alla mosca che molesta i cavalli Cistus Dominiò Il quale agrarava a mirare e a tocare i cavalli Entrava nella stalla Mentre l'ombra nataggiava tra l'inti il film E il dava fastidio Passant angilo del cavall Un dia l'ombra farà ti dio Vestare a forza che il cavalli Può ti dar una cosa E non girare a scicchi ma per Gesù Musconi L'uscisto del Mignò E spassati fino a Sfilz Las donnas las acciravano Aquellas de Muscona E qualche anziais També conosciuti come Musco Ringraziamo tutti gli ascoltarossi Che lo siguin E siamo entrando in un altro momento Tira una volta Due giuretas e un liri Avui un condens Com'a gran felicitat F Giuretas e un brevepunkt Montaggianti Grazie a tutti.